Una lunga fila questa mattina nell'Eco Point dei Molini Meridionali Marzoli a Torre del Greco per il ritiro dei kit per la raccolta differenziata. Sembra che dobbiamo aprire il pane, si tratta di quattro contenitori che costano quattro soldi, c'è bisogno di fare questa fila qui, fortunatamente ci sta il sole. Dita al sindaco di essere più moderno nelle cose. Quanto tempo è in fila? Allora non è questione di tempo, è questione di organizzazione. Si sarebbero tanti modi per elargire le... Perché non va questa organizzazione? Cioè trovare un altro sistema, abbiamo tanta gente che piglia qualcosa di soldo a fine mese, tipo reddito di cittadini, che potrebbero loro fare consegna a domicilio, porta a porta, o no? Qua gente anziana che pigliano pure una bronchita qua, non è giusto questo sistema. Forse perché tutti vengono i primissimi giorni. Eh certo, dopo tre o quattro mesi che non le danno, è un approfitto il primo giorno, ma se le darebbero tutte le settimane, per sempre, allora certamente non si farebbe la fila così. Funziona questo servizio? Lo vedete da voi. Cosa non funziona? Io vedo una fila. Questo è il problema, innanzitutto perché due giorni di qua e tre giorni di là. In base a dove uno risiede, dove abita, sceglie l'ecopunto. Diciamo che la popolazione forse di qua è maggiore rispetto a tre giorni praticamente, qua e due giorni dall'altro lato. Questa ditta potrebbe utilizzare due computer, oppure un lettore ottico, ma stiamo nel 2023, si devono aggiornare queste persone. Poi a fare una carta di identità, ci sono soltanto due persone allo sportello. Mesi e mesi di attesa, è uno schifo. Sì, sì, abbastanza, però diciamo che si sta sempre a perdere tempo, è quello che si, però funziona. La distribuzione, ripresa da qualche giorno, proseguirà fino al prossimo 26 febbraio nell'area di Via Calasso e nell'altro ecopoint di La Salle, nei giorni e negli orari stabiliti. Non sono mancate polemiche e lamentele dei cittadini. L'organizzazione ha schifezza, così come rappresenta Torre del Greco il primo cittadino. Cosa indecente, persone anziane che devono stare in fila per un'ora per prendere due sacchetti della spazzatura. E poi, se vogliamo parlare anche del servizio dell'altezza urbana, è fatto in modo inefficiente e clientelare. Viene solo pulito nelle parti del centro storico, ma se noi andiamo alle periferie ci sono immondizia e sporchizia in ogni luogo di strada. Secondo lei, invece, questo servizio di distribuzione come dovrebbe essere organizzato? Dovrebbe essere organizzato in modo efficiente, dei giorni alterni va bene, però a lettere, per esempio, come fanno tanti altri, mettere delle lettere per venire a prendere la spazzatura, mettere personale efficiente che possa fare una distribuzione equa e svelta, non perché la gente deve stare con questo problema del freddo, con il Covid che è anche sempre alle nostre porte, far sostare le persone per un'ora, anziani, in mezzo alla strada, donne, bambini, è una cosa veramente fuori dall'immaginazione. È una cosa normale che noi facciamo la fila e poi, oltre alle sacchette, prendiamo anche il raffreddore, prendiamo due cose. Poi, che devo dire, io quando vengo a fare questa fila mi diverto, perché conosco persone, amici, ci mettiamo a parlare, discutiamo, come un circolo all'aperto. Lei trova il lato positivo delle cose? Il lato positivo, è una cosa che siamo in pensiero, non abbiamo niente da fare con Luigi e ci mettiamo a parlare. È uno schifo, no, è nulla che ne parliamo, perché siamo trattati come bestie, vedete, in mezzo al freddo, è tanta gente, sto qui da un'ora e mezza. Il cittadino cosa propone? Eh, che propone? Tante cose stesse da propone. Ad esempio? Ci fanno, no, non fa niente. Lei è proprio sfiduciato? Oh, proprio sfiduciato. Consiglierei un po' di fare le buste di richiedere, le buste di plastica, un po' più robuste, perché molto spesso si strappano e ci cade tutto il materiale per terra, un po' più robusto. Quindi alla ditta appaltatrice chiedere questa cosa qua, inerente alla funzione. Se poi il servizio venga cambiato e fatto più come si fa in altri, di copiare per l'Italia un servizio migliore, beh venga, spero che i nostri comandanti sappiano almeno copiare il meglio.